Iniziamo subito come sempre con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni, oggi un grandissimo. Sì, Billy Idol, un rocchettaro vero. E allora, gustiamoci insieme, l'oroscopo musicale. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale, buon pomeriggio. Oggi nasceva un grande cantante britannico. Nel 1955, proprio oggi, nasceva, innanzitutto tanti auguri da parte nostra, nasceva William Michael Albert Broad, in arte Billy Idol. Nato a Londra nel quartiere di Stanmore, da un commerciante, presi il soprannome di Billy Idol da un episodio avvenuto in adolescenza. Quando era a scuola, l'insegnante gli consegnò un compito che lui aveva sbagliato con sopra la scritta in caratteri cubitali. William is Idol. William è un fanullone. Da quel momento iniziò a farsi chiamare da tutti Billy Idol. Idol frequentò la Warting High School for Boys, il futuro Warting College nel West Sussex. Nel 1977, anni in cui il punk cominciava a sconvolgere le regole della rock e della musica, Idol comincia la sua carriera musicale. Si era anche aggregato alla Bromley Contingent, un gruppo di fan che eseguiva i Six Pistols nei loro concerti. E fu proprio per un servizio televisivo che Idol si trovò catapultato con una chitarra in mano sul palco insieme ai Circe. Noi dicevamo l'opposto dei Clash e dei Pistols. Loro cantavano non Elvis, non Beatles, no Rolling Stones. Ma noi eravamo onesti su quello che ci piaceva. La verità era che tutti stavamo costruendo la nostra musica sui Beatles e sugli Stones. Non a caso furono uno dei primi gruppi punk ad apparire in televisione a Top of the Pops sulla BBC. La carriera da solista di Idol cominciò con l'MP Don't Stop, che conteneva i brani Dancing with Myself dei Generation X, originariamente registrato per il loro ultimo album Kiss Me Deadly e Mani Mani, cover di Tommy James. Il secondo album di Billy Idol, Rebel Hill, uscito nel 1983, ebbe grande successo e proiettò Idol tra le superstar musicali negli Stati Uniti. Successivamente la hit sbancò anche le classifiche europee, soprattutto in Germania, Italia, Svizzera e più tardi Regno Unito. L'album ottenne un successo planetario ed è considerato il culmine della sua carriera. I singoli Eyes Without Face, Flash for Fantasy e l'omonima Rebel Hill balzarono in vetta alle charts di tutto il mondo, divenendo alcune canzoni simbole del pop rock anni 80. Alcune tracce dell'album furono utilizzate anni dopo come colonna sonora di Big, commedia del 1988 diretta da Penny Marshall con Tom Hanks. Il 6 febbraio del 1990 Idol fu coinvolto in un serio incidente motociclistico che gli costò quasi una gamba, mentre tornava a casa di notte dal suo studio di registrazione. Non si fermò in un segnale di stop e fu centrato da un'auto. Pensate, poco prima dell'incidente il regista James Cameron lo aveva selezionato per recitare nella parte di T-1000 in Terminator 2, nel giorno del giudizio ed aveva già disegnato delle storyboard a sua immagine, ma chiaramente l'incidente impedì ad Idol di accettare. Nel 1993 Idol pubblicò Cyberpunk, considerato un album sperimentale. Fu registrato in uno studio casalingo utilizzando un Macintosh, cosa altamente innovativa all'epoca. I risultati però non furono benevoli ed il disco si rilevò tanto un flop per la critica musicale quanto troppo sofisticato per i vecchi fan cresciuti con Rebel Hill. Idol trascorse un periodo di depressione dove iniziò ad assumere droghe e rischiò anche la morte per overdose. Superato questo brutto periodo, Idol si dedicò completamente alla famiglia, essendo divenuto da poco padre. Ritornò sotto i riflettori nel 1998 quando interpretò se stesso in Primo poi me lo sposo, commedia romantica, nella cui colonna sonora vi era anche la sua canzone White Wedding. Sempre in campo cinematografico, Idol fece anche un'apparizione in The Doors, film di Oliver Stone sulla vita di Jim Morrison, leader della band, in questione, in cui Idol interpreta Kate, il compagno di bevute di Jim Morrison. Il 7 gennaio del 2023 gli è stata anche assegnata e dedicata una stella sulla Hollywood Walk of Fame. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Io vi saluto con tutto il mio cuore. Ciao da Silvia Pagni. Io vi saluto con l'oroscopo musicale.